Ciao a tutti a Dottor Tulu, oggi vi parlerò di... come si pronuncia? Betrayal at House on the Hill Ah, grazie Google! Andremo ad esplorare la casa stregata... Non è ancora iniziato lo scenario! Un gioco creato da moltissime persone, in descrizione trovate i nomi completi. Edito dalla Avalon Hill, da 3 a 6 giocatori, dalla durata media di 60 minuti. Al suo interno troviamo... Abbiamo 6 personaggi e, strano ma vero, sono dipinti. Il colore della maglietta di ogni personaggio corrisponde ad una tessera. Ogni tessera è double face e, all'inizio partita, possiamo scegliere quale lato giocare. Sulla tessera troviamo le caratteristiche di ogni personaggio. Abbiamo la velocità, la potenza, la sanità e la conoscenza. I valori colorati sono i valori di partenza e indicano dove andranno posizionate le barre. Abbiamo poi diversi segnalini. Quelli grossi e circolari sono mostri grandi. Questi sono mostri piccoli. Mentre poi abbiamo i segnalini statici. Questi, quando ci verrà richiesto, andranno posizionati sulle stanze che andremo a scoprire. Quelli pentagonali sono segnalini oggetto. Quelli triangolari sono tiri caratteristica. Mentre quelli quadrati riguardano eventi o stanze. Abbiamo poi dei dati particolari perché hanno solamente il valore 1 ed il valore 2 ripetuto due volte. 13 carte omen, ovvero presagio. 22 carte oggetto. E 45 carte evento. Un regolamento. Il tomo del traditore. E i segreti dei sopravvissuti. Questi due libretti non andranno letti finché non verrà rivelato lo scenario. Purtroppo sono tutti in inglese, ma sulla Tana del Goblin ho trovato una traduzione ottima che riguarda anche le carte. Vi lascerò il link in descrizione. Ed infine la cosa più importante, ovvero 44 tessere stanza. La tessera più grande, il pianerotolo del semi interrato e le scale del livello superiore saranno le nostre tessere iniziali. Abbiamo bisogno di molto spazio per giocare a questo gioco. Posizioniamo quindi il corridoio iniziale al centro del tavolo. Le altre due tessere le teniamo leggermente separate per attaccarci le eventuali stanze che andremo a scoprire. Ogni giocatore sceglie un personaggio e posiziona la propria miniatura all'ingresso. Ogni giocatore prende la tessera relativa al proprio personaggio e posiziona i segnalini bara sopra i valori colorati. Mescoliamo tutte le tessere stanza e andiamo a formare una pila che piazzeremo impossibilmente alla destra dell'ingresso. Facciamo lo stesso con i tre massi di carte. Adesso io per comodità li metterò fuori dall'inquadratura. Ed infine piazziamo i dadi in un punto ben raggiungibile da tutti i giocatori. Il primo giocatore sarà colui che è più vicino a compiere gli anni. All'inizio del gioco tutti collaboreremo per esplorare la casa. Lo scopo è quello di potenziare i nostri personaggi aumentando le caratteristiche o trovando oggetti utili. Nel proprio turno un giocatore può fare diverse azioni. La prima è quella di spostarsi dentro le stanze ovvero muoversi. Possiamo muoverci di un numero di stanze pari alla nostra velocità attuale che per quanto riguarda il giocatore viola è 4. Naturalmente se la velocità dovesse aumentare o diminuire diminuirebbero anche gli spazi che possiamo percorrere. Quindi il giocatore viola potrebbe spostarsi di 1, 2, 3 stanze. Rimanendo comunque con un movimento a disposizione. Adesso volendo può scoprire una nuova stanza. In tutti i punti dove è indicata una porta possiamo esplorare per trovare una nuova stanza. Ad eccezione naturalmente della porta d'ingresso che è sigillata. Il giocatore viola quindi decide di aprire una nuova stanza. Pescando dalla cima del mazzo cerca una stanza che sia del piano adeguato. Scartiamo quindi questa carta. Anche questa. Fino a trovare la carta del primo piano. La giriamo. E la posizioniamo nella porta che abbiamo aperto. Quando scopriamo una stanza vi entriamo automaticamente. Questo non conta come uno spostamento. Però se nella stanza che abbiamo appena aperto vi è indicato un simbolo. I nostri movimenti termineranno immediatamente. Oltre al fatto che non possiamo più muoverci ci indica anche quale carta dobbiamo pescare. Essendoci un corvo dobbiamo pescare una carta omen. In questo caso il personaggio viola ha trovato un libro. In grassetto abbiamo sempre diciamo la storiella. E sotto abbiamo i bonus o i malus. In questo caso guadagniamo 2 di conoscenza. E perdiamo 2 di conoscenza se perdiamo il libro. Il libro rimarrà sempre con questo personaggio. A meno che lui non decida di scartarlo. O qualche d'uno non glielo ruba. In fondo a tutte le carte omen c'è scritto che dobbiamo effettuare un tiro scenario. Per effettuare un tiro scenario prendiamo 6 dadi. E li lanciamo. Se il risultato è minore delle carte omen che sono state rivelate nel corso della partita. Avverrà lo scenario e andremo a prendere i libri. Ma in questo caso non è avvenuto quindi la partita continua normalmente. Dopo aver risolto gli effetti della carta. Andiamo a leggere gli effetti della stanza. Queste azioni vengono attivate tutte le volte che un giocatore entra dentro quella specifica tessera. In alcune è specificato che si attivano una sola volta per partita. Altre invece sono continue. Questa stanza in particolare ci dice che possiamo scegliere se cadere nella stanza da ballo. Sempre se è presente nelle tessere già scoperte. Se lo facciamo prendiamo un dado di danno fisico. Se prendiamo una scheda personaggio avremo a sinistra tutto ciò che riguarda il danno fisico. Mentre a destra tutto ciò che riguarda il danno mentale. Quando riceveremo danno fisico potremo scegliere di scalarlo dalla forza o dalla velocità. Quando riceveremo danno mentale potremo scegliere di scalarlo dalla sanità o dalla conoscenza. Possiamo anche scegliere di ridistribuire i danni tra forza e velocità o tra sanità e conoscenza. Ora finché non è iniziato lo scenario nessuno può morire. Quindi non possiamo mai scendere sull'icona del teschietto. Ma dal momento che lo scenario si è iniziato. Se un personaggio dovesse trovarsi sull'icona del teschietto con una qualsiasi delle sue statistiche. Quel personaggio sarebbe morto. In questo caso la stanza da ballo non è presente. Quindi non ha importanza a tirare il dado. Quindi questo personaggio si è mosso. Ha scoperto una nuova stanza. E scoprendo una stanza con il simbolo ha bloccato tutti i suoi movimenti. Potrebbe comunque usare delle carte oggetto o presagio. Oppure potrebbe effettuare un tiro di dado. E come ultima azione possibile potrebbe effettuare un attacco. Ma gli attacchi possono essere fatti solo con lo scenario già avviato. E in ogni caso si può attaccare una sola volta per turno. Passa quindi la mano al giocatore successivo. Il giocatore attivo si sposta e decide di esplorare una nuova stanza. Appena troviamo la carta con il piano adeguato. La posizioniamo in maniera corretta. Abbiamo appena trovato un bel cimitero. Sul cimitero c'è il simbolo di una carta evento. Quindi peschiamo una carta. Questa carta evento ci dice che tutti i giocatori che sono presenti in giardino, nel cimitero, nel patio o nella torre dovranno effettuare un tiro di forza. Quando ci viene chiesto di effettuare un tiro caratteristica prendiamo la scheda personaggio e verifichiamo il valore di quella specifica caratteristica. Questo ci indicherà quanti dadi dobbiamo tirare. Confrontiamo il risultato con la carta. E questo ci causa un danno fisico. Dopo aver risolto gli effetti della carta, come prima, verifichiamo gli effetti della stanza. Per uscire dal cimitero dovremmo effettuare un tiro di sanità e con un risultato di 4 o più siamo libri di uscire. Se invece falliamo il tiro prendiamo un danno sulla conoscenza. Ancora una volta questo personaggio è costretto a passare. Infatti non può più muoversi perché è uscito un simbolo e non avendo oggetti non può usarne nessuno. Ora il gioco è tutto strutturato in questo modo quindi è veramente molto semplice. Specialmente all'inizio quando dobbiamo solo esplorare la casa sarà molto molto veloce. Quando invece apriremo lo scenario la cosa cambierà. In ogni caso voglio farvi vedere l'attacco. Mettiamo che questo personaggio voglia attaccare quest'altro personaggio. Questi due personaggi tirano i dadi quanto è il loro livello di forza. Facciamo finta che sia 3 dadi e 3 dadi. Dopodiché confrontano i risultati. Questo giocatore ha fatto 5 mentre questo giocatore ha fatto 4. La differenza tra questi due risultati sarà il danno subito dal giocatore. In questo caso il giocatore bianco causerebbe una ferita al giocatore rosso. Una cosa che non ho detto è che quando scopriamo una nuova stanza dobbiamo sempre posizionarla in modo corretto. Per fare ciò basta far combaciare le porte. Naturalmente può anche capitare una situazione del genere dove posizioniamo la porta in modo corretto ma una va a collegarsi con un muro. In questo caso considereremo questa porta sicillata. Comunque mettiamo che un giocatore ha appena aperto questa stanza rivelando una carta presagio, un omen. A questo punto dopo aver risolto la carta dovrà effettuare come prima un tiro scenario. Mettiamo che fallisca questo tiro. Con la sfortuna questo giocatore totalizza solamente un 1. E visto che le carte presagio rivelate sono due questo tiro è fallito. Parte lo scenario. Prendiamo il tomo del traditore, lo apriamo alla prima pagina e prendiamo la tabella. Da questa tabella dobbiamo guardare la carta che abbiamo pescato con l'ultima stanza, ovvero il morso. Con la stanza in cui ci troviamo, che è la master bedroom. Lo scenario sarà quindi il 35. Ogni scenario ha le sue regole. Se non è indicato il traditore sarà chi ha fallito il tiro scenario. Altrimenti il regolamento ci dirà chi è. Nel tomo del traditore vi è indicato le regole che il traditore dovrà seguire per vincere la partita. Mentre nel tomo dei sopravvissuti vi sono le regole che i sopravvissuti dovranno seguire per poter vincere la partita. Ora sono presenti 50 scenari, quindi non starò nemmeno a farvene vedere uno perché non ha senso. Ogni scenario ha regole differenti. Nel caso si voglia esplorare una stanza ma tutte le carte sono finite, rimescoleremo la pila degli scarti. Come avete visto non ho messo nessun segnalino, anche perché sarà il gioco a dirvi dove piazzarli e che cosa faranno. Le regole di base rimangono le stesse ma è possibile che uno scenario possa cambiarle leggermente. Dopo che uno scenario è stato rivelato, il primo turno inizia sempre con il giocatore che si trova alla sinistra del traditore e dopo prosegue in senso orario per fare in modo che il traditore sia l'ultimo a giocare. Se siamo in possesso di uno o più oggetti possiamo effettuare una delle seguenti azioni per ogni oggetto che possediamo. Possiamo usarlo, possiamo darlo ad un altro giocatore che si trovi nella nostra stessa stanza. Possiamo lasciare l'oggetto in una stanza, se lo facciamo posizioniamo un segnalino oggetto nel punto dove lo lasciamo. Possiamo rubare un oggetto ad un altro giocatore, questo in genere avviene dopo che lo scenario è stato rivelato. Oppure possiamo raccogliere un oggetto lasciato a terra. Nel nostro turno possiamo anche effettuare più tiri di dado. L'importante è non ripetere mai un'azione già compiuta. Se per esempio vogliamo uscire dal cimitero possiamo effettuare un solo lancio. Ma possiamo effettuare un altro tiro di dado per attivare un oggetto o per altre situazioni. Fondamentalmente vi ho detto tutte le regole. Ora non vi ho fatto vedere alcune stanze speciali ma anche queste le vedrete mentre giocherete. Sappiate che c'è una stanza che si chiama ascensore mistico che può trasportarvi in un qualsiasi punto della casa. In conclusione è un gioco che mi è piaciuto molto nonostante sia un American che io di solito non amo. I materiali sono abbastanza buoni anche se le tessere non avendo un incastro si muovono al minimo contatto. Le pedine sono dipinte però sono anche facili da danneggiare. Stateci attenti perché si rompono facilmente. Ha una spettacolare rigiocabilità. Infatti con 50 scenari c'è praticamente l'imbrazzo della scelta. Se vi capita di farne uno che ne avete già fatto potete scegliere un altro scenario a caso. Purtroppo non ci ho giocato molto però mi sembra proprio un gran gioco. Un saluto dal Dottor Tulu e al prossimo video. E basta un cataspada!